Ciao Ferchini Ferlini, oggi facciamo una ASMR, sto sempre qua da mia vita, siccome ho visto in questo vlog che sussurro e va bene mi fa ASMR, vi faccio ASMR con l'acqua, dove sto qua a fare la colazione, perché così sentite a voi la prima seconda ok, adesso sto vedo questo qua, facciamo un'altra cosa, facciamo un'altra cosa ecco Grazie a tutti. 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 a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. 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 tutti. a tutti. a tutti. a tutti. ad esempio. ad esempio. ad esempio. a tutti. 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 casa con i cani, però io se non mi portavo i cani non mi sarebbe rossa dietro io avevo una casa adatta con i cani e io ritrovavo la fettava e ritrovavo solo per lui di casa sapendo che io portavo i cani perché erano persone che si pensano che gli dicano a lui che non sanno che io voglio cani ma io ho preso casa tramite un'agenzia immobiliare perciò prima di fare il contratto io ho detto che io ho i cani e perciò ecco qui i cani Purtroppo questo è stato l'opera di Leo che me l'hanno preso sotto però non ce l'avevo, ce l'avevo detto qua quando andavo a fare prima c'è chi è uguale e ha soffiato tantissimo qualora è pessio mamma mia e poi ha soffiato tantissimo nella vita a me e poi ha soffiato tantissimo nel paese come le persone che nascono sfortunate mamma mia guardi vorrei io ho appena scappato via poi non ho più cappato io ma non ho preso non volevo giocare in questi amorti e vabbè sobe La stella che tocca a casa io presso, quando va fuori a far bisogno, non la posso lasciarla solo perchè c'era il tuo parcoore, il cuore indietro e le scale, perchè ho io quelli che tocca a casa io sempre presso. La willy, che è vecchietto, stella c'era 16, lui è sotto, eppure mi sa, c'era solo un po', sono vecchissime, quindi io per esempio mi avevo scritto a papadaggio e non stare tre mesi senza mangiare e colarlo, cosa fai la vita? Non sapendo se ce l'avevo fatta, eh, però ci abbiamo voluto e ci siamo riusciti, sono andata a vedere in area interna, io volevo fare la puntura che sopprime, noi gli abbiamo detto no, dall'anno sopra la notte, e sapevo 8 anni che è successo, adesso ce l'aveva 15, quasi 16, tocca sempre provare, sempre, perchè non si sa, avete sempre cosa scatta la notte, non può sempre ho mai. Io mi andò adesso, vi lascio, perchè vedete, questo lo messe ha the same on that ASMR e spero che vi piacciono ma e se vi piace dite me lo ho fatto un po' tutto nella mia vita per ora che faccio una ragione e ho guardato un po' di roba e adesso vi lascio perché è finito un po' di questo video grazie per la visione che mi avete fatto se mi incontrate in strada salutatemi perché io non vi conosco oppure se mai avete già salutato vi salutatemi perché dopo io non vi ricordo perché ci sono persone che vi salutano ma così perché io vi lascio ciao a prossimo